bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi ancora un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite nel video di oggi parleremo delle patch che stanno per arrivare dell'arrivo molto probabilmente di un'arma davvero interessante e di ciò che sta succedendo tra twitch e gli stati uniti prima però volevo ringraziarvi per tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi hanno ridato l'account di instagram quindi posso ripubblicare le storie delle vostre scioppazzate mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è di nuovo la collaborazione di fortnite con apple avevamo visto qualcosa tre o quattro giorni fa e da adesso ci sono delle notizie ufficiali questa è una traduzione da una pagina che tratta appunto gli news di fortnite sudamericana e dice fortnite sta testando una nuova funzionalità di accesso che supporterà l'accesso apple su dispositivo mobile il pulsante accedi con apple apparirà oggi ma non funzionerà durante il test questa funzione sarà disponibile con il rilascio della patch 13.30 quindi tutti voi che giocate magari dai dispositivi apple potrete accedere direttamente dalla patch 13.30 e ovviamente abbiamo anche delle notizie interessanti per quanto riguarda proprio la patch perché ieri pomeriggio hanno terminato di fare i test server sulla 13.30 e ne stanno facendo ulteriori sulla 13.40 questo vuol dire che il giorno 21 luglio la data in cui usciranno i veicoli quindi settimana prossima è molto probabile se non certo che arriverà anche la nuova patch siamo a secco da un bel po' ragazzi speriamo quindi che porti una grande ventata di aria fresca beh l'arrivo dei veicoli sicuramente stravolgerà completamente il gameplay io personalmente non vedo l'ora di vederli e spero che anche voi siate abbastanza in hype quindi ragazzi ancora un po' di pazienza e vedrete che ne vedremo delle belle e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi che proprio oggi forse da una mezz'oretta o forse fra mezz'oretta comunque tra le 8 e le 9 del mattino ora non ricordo correttamente l'orario si entrerà nel nuovo livello di abbassamento delle acque quindi un bel po' di parti di mappa verranno ulteriormente scoperte questa ragazzi è un'immagine della mini mappa che vi apparirà quando appunto l'apriremo in game e come vedete se andiamo a notare nella parte in basso a sinistra diciamo sopra pozzo traballante sembra essersi formata addirittura una linea continua che collega tutta la parte di destra quindi la parte centrale un po' prima diciamo di brughiere per capirci meglio fino addirittura alla parte di estrema sinistra sopra la fortiglia per farvi capire bene e come vedete tante altre parti di terra sono emerse questo ci fa insomma capire che la mappa sta tornando come eravamo abituati a vederla nella stagione 2 ci vorrà ancora un po' di pazienza per arrivare al termine e vi ricordo che stiamo anche aspettando la nuova location quella in alto a sinistra dove adesso c'è questo grande spazio di acqua che sarà il luogo dove verrà ospitata appunto atlantide le rovine quindi tutta la location di aquaman staremo a vedere a me piace sinceramente tanto questo fatto che scende l'acqua perché sembra quasi sempre di giocare a un fortnite nuovo ci sono con la nuova mappa perché quando si rivelano le varie location si rivelano anche forzieri casse di munizioni e anche per quanto riguarda l'arena si sviluppano delle nuove strategie di landing oppure di posizionamento mi piace mi piace veramente un casino e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece qua ragazzi siamo in un argomento molto delicato che forse non tutti tratteranno per chi non lo sapesse twitch ha bannato permanentemente l'account dell'esercito americano ok perché ha bannato l'account dell'esercito americano su twitch perché si è scoperto che durante le live venivano proposti dei giveaway per ottenere controller console xbox one series e tanto altro il problema è che è venuto fuori che nel momento in cui l'utente cliccava per accedere al link veniva portato in realtà in una pagina di reclutamento all'esercito il che potrebbe innanzitutto violava le regole di twitch quindi non andava assolutamente non poteva assolutamente essere fatta una cosa del genere e due cioè io voglio magari vinco un contest lascio i miei dati e il giorno dopo mi mandano la lettera perché devo essere arruolato quindi è una cosa che è stata veramente incredibile da sapere tra l'altro per chi non lo sapesse c'è stato anche il ban per due settimane dell'account ufficiale del presidente americano non voglio dire il nome perché magari non mi fanno le monetizzazioni del video quindi sapete benissimo di chi stiamo parlando per incitamento all'odio quindi ragazzi una notizia anche qua che andava detta per informare anche tutti voi in italia del fatto che twitch ovviamente non tollera assolutamente comportamenti che violino le regole della piattaforma di streaming andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un'enorme discussione su questo che state vedendo come sfondo loro sono i predoni li abbiamo imparati a conoscere a me sono caduti in testa già due volte le meteoriti mentre stavo andando per i fatti miei quindi follia pura il problema dei predoni il problema dei predoni è che sono OP innanzitutto perché se cominciano a caricarti sei predoni diventa un casino ma quando comunque la maggior parte delle volte riesci ad avere la meglio su tutti sei comunque strasgamato dagli altri giocatori in mappa perché fai un casino della madonna per buttarli giù tutti ma il problema più grave è che questi predoni sono presenti anche in arena e quindi da lì si è infiammato un argomento su reddit dove ci sono migliaia di persone che commentano e che continuano a commentare chiedendo la rimozione dei predoni dall'arena personalmente sono d'accordo sono d'accordo perché non hanno senso in arena l'arena è tutto un mondo a sé e avere un disturbo esterno da dei bot secondo me non ci sta detemi se volete ragazzi la vostra opinione qua sotto nei commenti i bot in arena sì i predoni in arena sì oppure no fatemelo sapere andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una notizia davvero interessante vi ricorderete senz'altro tutti che due giorni fa quando è uscito il bundle di Black Manta insieme appunto alle sfide di Aquaman e alla skin è apparso anche un trailer quindi riavviando Fortnite tutti abbiamo visto il trailer di Black Manta con i suoi scagnozzi però qualcuno si è accorto che durante il trailer viene mostrata un'arma che tutti conosciamo è un bel po' che non la si vede in game ragazzi però è lì come sappiamo quando vengono proposti i trailer a volte ci inseriscono dentro dei piccoli easter egg che solamente gli occhi più attenti riescono ad accorgerci sto parlando ovviamente del fucile d'assalto pesante fucile d'assalto pesante che vi ricordo ha delle statistiche notevoli davvero interessanti sappiamo che nella versione rara toglie 44 nella versione epica toglie 46 nella versione leggendaria toglie 48 lo si poteva trovare nell'Utaterra lo si poteva trovare nei forzieri normali nei drop e vi ricordo era stato inserito addirittura nella patch 6.22 3,75 il fire rate e 25 colpi nel caricatore non so ragazzi se abbiano voluto inserirlo volutamente oppure semplicemente veniva presa da chissà quale clip quel trailer però sarebbe davvero un ritorno molto gradito insomma ragazzi anche per oggi ho tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao vedo nero nei miei occhi perché box order deve arrivare a dieci minuti nero nero